Ciao amici di MyFastbook, oggi voglio parlarvi di un libro che possiamo definire un saggio perché questi libri spiegano cose molto importanti per la vita, per noi stessi e ciascuno di noi poi trova il modo di applicare quella cosa che si ha letto nel proprio caso. C'è sempre qualcosa che si può imparare in questi libri e mi piacciono molto per questo motivo. Questo è un manuale pratico e illuminante su come raggiungere i propri obiettivi superando ogni ostacolo. Il libro è Se vuoi puoi smettila di sognare e incomincia a fare. Prendi in mano la tua vita di Bernard Roth delle edizioni Corbaccio. Traduce tutto Anna Talò. Veniamo al libro. In Se vuoi puoi Roth applica i concetti del design thinking ideato in origine come modello per trattare problemi compressi che portano a rischi decisionali per le aziende, per aiutare a realizzare i cambiamenti positivi a cui ognuno di noi può aspirare. Posto questo, Roth presenta discussioni, esempi, suggerimenti ed esercizi selezionati per aiutarci a vedere in modo differente la nostra vita e per renderci consapevoli che un passo alla volta possiamo realizzare tutto ciò che abbiamo sempre voluto superando gli ostacoli che si frappongono ai nostri obiettivi. Impareremo perché provare e realizzare sono due cose molto diverse, perché trovare sempre delle scuse anche se legittime per giustificare un determinato comportamento è un atteggiamento autolesionista. Come dei piccoli cambiamenti del linguaggio che usiamo possono aiutarci a risolvere i nostri dilemmi esistenziali, come aumentare la resilienza, cioè la possibilità di modificarsi, di adattarsi, rinforzando ciò che facciamo ad apprendere dalle nostre esperienze e da quelle di chi ci sta intorno. Il nostro cervello è un organo molto complesso e spesso congiura con il nostro ego, sabotando le nostre migliori intenzioni. Con l'aiuto di questo libro impareremo a coltivare un atteggiamento mindfulness, cioè consapevole, autentica, di consapevolezza autentica e ad alimentare abitudini che miglioreranno la nostra vita, sia professionale che personale. Io sicuramente questo lo leggo perché si impara sempre qualcosa. Mi piacciono molto come sono strutturati questi libri e devo dire che veramente pagano. Ci vediamo, a presto!